Mi soccorre da come parlo, da come sorrido, da come guardo, ma soprattutto da come sto vicino. Ma certo, certo. Il dialetto viene considerato patrimonio culturale dell'umanità, assieme alle migliaia di lingue parlate nel mondo, in quanto parte fondante dell'identità di ogni comunità. L'Italia è uno dei paesi al mondo con più varietà di dialetti, in quanto ogni comune ne ha uno. A cuci e cuci, l'inghiste lo proprio sotto, che andiamo a mangiare, ma i porti amici, ma che stai? Il dialetto, espressione della ricchezza, delle nostre diversità culturali, deve sempre essere valorizzato e rispettato. Il dialetto rappresenta le nostre radici, la nostra cultura, e come tale deve essere tramandato e mai dimenticato. Si può essere cittadini del mondo, pur conservando le proprie origini. Ma tutti i nati in questa città sono la voce del fanno. E quello che tra l'altro mi meraviglia è che in questi ultimi anni c'è stata proprio una attività da parte di molti fanesi, una quasi corsa a riprendere, a recuperare il dialetto che una volta si parlava sempre, tranne che a scuola dove era severamente vietato l'uso del dialetto. L'arte che ruolo ha in tutto questo? Le commedie, penso alle poesie dialettali, questo è un modo per preservare alcune sfumature che magari poi nel tempo si perdono? Sì, sono una testimonianza validissima. È una forma di mantenimento e di recupero anche. Purtroppo, come avviene per tante specie viventi, animali e vegetali, ogni anno scompaiono tantissimi dialetti e il mondo si impoverisce, si semplifica, si uniforma, diventa sempre più monocorde. Perde la diversità, che è stata la fondamentale e preziosa risorsa del genere umano e del pianeta Terra. Il dialetto continuerà ad esistere se verrà usato e valorizzato, se tante persone lo adotteranno come lingua di comunicazione. Questo è il destino di tutte le lingue. Ben conscio di questo, il consigliere regionale Boris Irapa si è fatto promotore di una proposta di legge con lo scopo di trasmettere e tramandare, onde evitarne la scomparsa, di tutto il patrimonio racchiuso nei dialetti, attraverso la sua conservazione e diffusione di tutte le sue forme di manifestazioni ed espressive. Questa proposta di legge sulla valorizzazione dei dialetti marchigiani si articola principalmente in due aspetti. Il primo aspetto è quello della conservazione ed è prevista l'istituzione di una biblioteca di dialetti marchigiani dove conservare appunto tutto il materiale, io penso a libri, poesie, materiale audiovisivo, tutto quello che riguarda un pochino il mondo dialettale, per metterlo anche poi in una sezione online da fare consultare anche esternamente. Il secondo aspetto molto importante è quello soprattutto del sostegno alla diffusione. In questo caso io penso per esempio a un sostegno anche economico alle compagnie teatrali dialettali, a poeti, scrittori, a coloro che volessero anche prevedere dei film, dei cortometraggi, insomma una serie di iniziative legate al mondo dialettale. E poi quando si è sciurata dentro a un vaso la misa sta pulenta, stretta, stretta. Alla fine l'ha consegnata a Manur Toulan che ci ha spentato. Al giorno è nato il primo fan di Sdefang.